questo di qua mi sa che è peggio ma ZOV oh c'è la sportiva oh vabbè possiamo partire anche lo sai ragazzi un saluto al vostro tacchino è Astartide e benvenuti su StumbleGuys come fa a non essere bello io solo a guardarlo mi incute un quoziente intellettivo di 200 triliardi oh no pronto ci siamo o non ci siamo ragazzi ho fatto una pazzia una pazzia follia che penso che nessuno 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 si Astartide ci ha tryhardato un po' ma un po' giusto un pochino con l'evento degli stura lavandini perché io pensavo da se gli stura lavandini sono in mappa e quindi l'avevo tolto gli ultimi due tre giorni ho detto no ma io non posso non prendere le skin a gratis non sapendo che ad essere alla fine delle mappe un compenso in stura lavandini che ne davano 15 50 100 e 200 possiamo direi anche cominciarci a ritirare tutte le skin dovrò decidere poi che cosa mettere una di queste ma secondo me è il sensei quello più bello di tutti ragazzi ecco c'è poco da fare è così è anche quello meno usato quindi perché usare una skin uh bellissimo questi sono i passi perché usare una skin dorata che ce l'hanno tutti la stanno usando tutti a non finire sembra che veramente ce l'abbiano solo loro no equipaggio no però non mi fa ridere c'ha gli occhi di fuori cioè questo è uscito dal cimitero dei conii non si sa manco come ha fatto questo sembra quando vede i randomini e dici tu sei questo e io sono tanti che devo fare il sensei è il più bello di tutti c'ha pure i baffetti no i baffetti non c'è no i baffetti però gli hanno messo la cicatrice super giga chad vai c'ha pure con lo skate ma come si fa guarda ma c'ha pure la camicia tutta floreale ma quanto sei bello c'ha no vabbè qua la collana pure con i fiorellini infine siamo arrivati nel gold rabbit bellissimo pure questo perché ovviamente è d'oro è oro 24 carati placato no placato no perché se vedi oro 24 carati mamma mia sono volati 12.000 stura lavandini così così in due secondi tac 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 ah che bello ma c'ha pure no c'ha le foglie è un super sensei ma pure la texture mi hanno messo lì ma pure che rimbalzano sopra il cappello ma co signor scopoli ma lì mi sta facendo cose troppo belle ultimamente ma co ma qua io vedo un impegno immenso andiamocelo subito a provare ne è ubico ma pure mentre corre con le foglioline che ci vanno dietro si vede che c'è stato un impegno immenso con una collaborazione con i rabbits dammi mappe normali non ci voglio disclerare certo userò le mode per la vostra felicità visto che io in live non uso mai le mode ecco la mappa che preferiscono tutti vero perché io lo so che questa mappa la odiate tutti una volta mi sono permesso di dire ragazzi mettiamo questa mappa mi hanno preso tutti un pallaccio e mi hanno detto no stai a chi voglia stai questa mappa e capisco il perché allora essendo io che sono un sensei mi fate passare ho bisogno bisogno di spazio ho un bastone no un bastone non ho paura di usarlo che poi il bastone della vecchiaia non ce l'ha sensei lei dovrebbe avere tipo una specie di katana una palla c'era grazie per il rugby ringrazierà l'allenatore fammi entrare mettiamo una bananina qua nel traguardo chi la prende vince 20.000 euro che bella tilefall a me piace un botto perché mi piace rischiarla no questo no non è neanche questo inutile che andavo lì sopra ed era pure verde del tipo come prenderci in giro no non voglio andare voleva lui non è quello no se mi fai cadere ti faccio cadere io tagliti dalle scatole fammi volare levati no era giusto non saltate indietro no scendete scendete struzzi non ve lo meritate oddio sta mappa ho vinto spesso in questa mappa grazie a questa mappa ho fatto io un botto di stura lavandini proprio grazie a questa e anche alle altre elimination map cioè sono contento che abbiano messo l'elimination map alla fine anche perché dico ve l'ho detto le mote non le uso quasi mai ma sti giorni ho fatto proprio schifo penso che sti giorni mi abbiano preso a parolacce nei video almeno come minimo ci devono essere qualche parolaccia nei video è strano che anzi non sia accaduto però vabbè possiamo sempre migliorare non fate perché sono i moderatori che figa uno è caduto che facciamo signor conio lei cade da solo facciamo l'intrattenimento e facciamo pure il fail facciamo vedere il fail di Astartide che cade per avvenirla a panciare che dice no però se lei se ne scappa così io non ci posso stare bello tranquillo e io la devo inseguire dai non mi può fare questo ho bisogno ma perché se ne va ma guarda io sono il meno temibile di giocatori di Stumbleguest ma veramente come me lo stai dicendo niente lui scappa vieni qui ma perché te ne vai un attimo perché devo prendere il no ma no sta scappando il bullino il bullino cheat dove sei andiamo sopra il taxi che è complicato qua e fa gli lanciamo no non voglio lanciare la banana se lancio la banana me la posso prendere pure io non fare brutte figure Astartide aspetta ora non prendere le spine no ma come me lo stai dicendo sei andato nel portale sì sì nel portale beh il cuoricino ci sta un sacco deve esserci con questa cicatrice super sensei ma dobbiamo rompere un po' la serietà del sensei perché è un po' troppo serio però non dobbiamo superare il quotiente intellettivo del pacchino dove è l'altro coniglio dammene uno così a caso così tanto per andarla a provare beh mamma mia ma questo il consentente intellettivo gliel'ha gliel'ha rotto a metà questo di qua mi sa che è peggio ma ZOV oh c'è la sportide mi sono salvo oh bene possiamo partire anche lo sai basta cicchiere lui non ha nessuna texture invece al di fuori della sua skin comunque bello il sensei merita merita sincero merita più il sensei che la skill da gold ragazzi merita molto di più però vabbè ognuno c'è i propri gusti gli altri hanno messo tutti la skin dorata vabbè fammi mettere questa visto che nessuno la usa stanno usando tutti la dorata e quello con lo skate la mia preferenza si sta spostando o in questa e in quella del sensei vabbè questa perché è semplice questa è bella perché se ne va in giro a fare il sus a guardare a tutti guarda con con che tonalità di sguardo di guarda ma come si permette schifi mi faccia passare eh ma come abbiamo traiardato prima e adesso mi fate cadere all'inizio è un po' vergognosa ragazzi raccogliete gli suralavandini ne vale assolutamente la pena non c'è neanche tanto da traiardare se ci sono riuscito io che faccio schifo figuriamoci se non ci riescono gli altri che sono molto più bravi di me io sono qua solo per farvi divertire non sono qua per fare le traiardate i casini e cose varie lo sapete chi mi conosce nelle live sa bene che viene per divertirsi e no per tossicismo e cose varie quella aboliamoli non servono a niente tossicismo lasciamolo ai mononeuroni aiuto aspetta ma no ma no 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 aspetta no così non mi piace così c'è troppa ansia star accanto a no no che ti venisse il pirullino piccolo quello c'è insurato mi andate a spingere vai possiamo anche terminare il video con questa abbiamo già abbastanza fatto schifo ragazzi per questo video è tutto lasciate mi piace iscrivetevi commentate e condividete in descrizione trovate instagram tiktok il server ufficiale discord del canale mi trovate ogni giorno in live con brostars stumble guys e fall guys sempre alle 5 del pomeriggio fino alle 7 ciao ragazzi dovrebbe fare così ma non lo so non mi ricordo il verso dei rabbit mi trovate mi trovate Grazie a tutti.